Musica Seconda edizione del nostro telegiornale, bentrovati, apriamo con la cronaca così come abbiamo anticipato durante l'anteprima del TG Andiamo subito ad Aci Sant'Antonio nel Catanese dove questa mattina si è consumata una audace rapina ai danni dell'ufficio postale del paese I ladri si sono introdotti attraverso un foro che era stato praticato pensato giorni fa in occasione di un altro tentativo di rapina però questa volta andato in fumo Fioccano le polemiche anche perché uno dei dipendenti è finito in ospedale, pare per un piccolo strattonamento Vediamo insieme Secondo alcune testimonianze il colpo di stamani alla posta di Aci Sant'Antonio era già stato ampiamente programmato A 15 giorni a 10 qualcuno aveva cercato di abbattere un muro perimetrale qui alle spalle dell'ufficio postale Stamani c'erano i muratori che stavano facendo dei lavori di ripristino di questa parete I malviventi sono entrati da questa porta che hanno trovato aperta, si sono introdotti all'interno degli uffici postali Hanno sequestrato la direttrice e fermato anche un altro dipendente e armati di mazza con il volto travisato da bassa montagna Hanno sequestrato i due dipendenti e poi messo a segno la rapina Il colpo avrebbe fruttato ai malviventi circa 50.000 euro, la rendicontazione di cassa stabilirà resatto a manco La coppia di rapinatori entrata in azione intorno alle 9.30 del mattino sapeva come muoversi e conosceva l'esatta obbligazione interna degli uffici Uno dei banditi ha sequestrato la direttrice che è stata chiusa in bagno e strattonato violentamente un dipendente che aveva accennato una reazione a difesa della propria superiore La donna sotto sciocca è stata liberata dai colleghi e trasferita a bordo di un'ambulanza all'ospedale di Ecireale Immediata è scattata la caccia ai criminali da parte dei carabinieri della locale stazione che hanno battuto il territorio alla ricerca dei componenti della banda Forse ad attenderli fuori dall'ufficio postale di via Inaudi, periferia sud del paese C'era un terzo complice a bordo di un'auto con la quale sono riuscita a far perdere le proprie tracce Armate di mazza con la sola imposizione della voce hanno terrorizzato i dipendenti e prelevato il contante di cassa Nessuno tra i clienti si sarebbe accorto di nulla Momenti drammatici che un dipendente delle poste impaurito non ha voluto commentare per timore di ritorsioni Non posso dire niente perché sono fuori servizio in questo momento, la ringrazio per favore, grazie Un cartello affisso dei dipendenti all'ingresso dell'ufficio informava la clientela dalla chiusura per un guasto imprecisato Appresa la notizia, gli utenti sconfortati hanno commentato così l'episodio criminoso Ci sono rimasto, certo, perché io vengo normalmente e trovo che è molto efficiente questo ufficio postale A Daci Sant'Antonio anche salvo di grazie della CISL che punta il dito contro i vertici delle poste Per Italia la sicurezza come la riduzione dei vigilantes a presidio delle poste La questione che a noi interessa di più è la sicurezza delle persone E oggi per l'ennesima volta è stato fatto ancora una volta un evento criminoso che ha coinvolto i lavoratori Fra l'altro, e noi di questo puntiamo il dito contro l'azienda Hanno approfittato di una situazione strutturale sulla quale l'azienda non è intervenuta Come avrebbe dovuto invece, dietro fra l'altro una nostra segnalazione di oltre dieci giorni fa Si è disinteressata della questione e quindi indirettamente ha favorito Tra virgolette ovviamente l'evento di stamane E mettendo a rischio ancora una volta la sicurezza, la pelle dei lavoratori Cosa chiedete a questo punto alla direzione delle poste? Noi chiediamo che vengano fatte i necessari investimenti in termini di sicurezza E soprattutto a difesa e a tutela dell'incolumità dei lavoratori Anzi, ne approfitto perché proprio in questi giorni l'azienda addirittura per un meno risparmio di costi Ha tagliato la vigilanza armata che staziona davanti agli uffici postali Quindi ha ancora una volta danneggiato, peggiorato se è possibile la questione della sicurezza degli uffici postali Gli agenti del compartimento polizia postale di Catania e del compartimento polizia postale Piemonte Hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa dalla procura della Repubblica di Torino Nei confronti di una coppia di coniugi quarantenni dimorati a Catania Fingendosi avvocati o dipendenti di enti pubblici Erano riusciti a ottenere oltre 300 mila euro con false promesse di elargizione di denaro Al momento le truffe accertate sono una trentina Tutto nasceva da una telefonata con la quale veniva comunicato di dover recapitare un'importante cifra in denaro ricevuta in eredità O un rimborso regionale Con questa prospettiva numerose suore e parroci di tutta Italia Questi erano gli obiettivi fissati Hanno assecondato la richiesta anticipando il pagamento delle tasse Di alcune tasse necessarie per mobilitare la somma promessa Ovviamente le tasse erano del tutto a fasulle Le scelte delle vittime non era casuale ma frutto di un attento studio di fatti verosimili In modo da rendere più credibile la richiesta Andiamo ancora avanti Catania Quattro spacciatori sono stati arrestati Dalle forze dell'ordine Dalle carabinieri di Piazza Dante Uno di questi allertava i complici Suonando la tromba Quella che si utilizza nello stadio Appunto per fare eventualmente scappare i complici Dal campanellino al fischietto Ma non si ricorda a memoria d'uomo il palo Che per proteggere i pusher durante l'attività di spaccio Dal possibile arrivo delle forze dell'ordine Sia stato dotato di tromba gas Di quelle che solitamente squillano fragorosamente allo stadio Durante la partita Accade a Catania Dove i carabinieri della compagnia Piazza Dante Hanno bloccato ieri quattro giovani ritenuti responsabili In concorso di spaccio e detenzione illecita di sostanza stupefacente Si tratta di Vittorio Mela Arancio 41 anni Mario Salvatore Miraglia 23 anni E dei fratelli Lorenzo e Salvatore Prestipino Rispettivamente di 31 e 28 anni Tutti catanesi Il quartetto è stato bloccato nella zona tigua All'orto botanico Tra le vie Consolazione e Guglielmo Il 41enne Che aveva le mansioni di vedetta E dotato di tromba gas Si era posizionato sulla terrazza di un edificio ubicato tra le due strade Al fine di avere sotto controllo l'intera zona E proteggere con lo sguardo vigile i pusher Dall'arrivo delle forze dell'ordine Un'altra vedetta è stata scovata dai carabinieri all'angolo tra le due strade Mentre gli altri due complici ricevevano i clienti Per recarsi in un giardino di Vico Guglielmo Dove, all'interno di uno zaino Prelevavano le dosi di stupefacente Consegnandole agli assuntori I militari dell'arma hanno ammanettato i quattro Già posti ai domiciliari Sequestrando 50 dosi di marijuana Altri 280 grammi della medesima sostanza Nonché un bilancino di precisione I carabinieri della tenenza di Mister Bianco Hanno arrestato in plagranza di reato Un quarantunenne Per furto aggravato di 300 kg di rame E tubi d'acciaio Da un cantiere edile appunto di Mister Bianco L'uomo è uno dei protagonisti Della protesta in cattedrale Dei Senza Casa Che da mesi dormono nella basilica principale Appunto nella basilica di Catania La procura chiederà la convalida dell'arresto E ha disposto per lui i domiciliari Nell'abitazione in cui ha il domicilio Adesso ancora in cronaca La direzione investigativa antimafia di Catania Ha confiscato beni per oltre 9 milioni di euro Ad un appartenente al clan Trigila Beni per 9 milioni di euro Sono stati confiscati Della DIA di Catania A un imprenditore del settore del noleggio Di apparecchiature elettroniche Per il gioco d'azzardo Ritenuto appartenente al clan mafioso Siracusano Trigila E affiliato, secondo gli inquirenti Al clan mafioso catanese Organico a Cosa Nostra Capeggiato da Nitto Santa Paola Si tratta di Gaetano Liuzzo Scorpo 53 anni Imprenditore originario di Tortorici Nella messinese Liuzzo Scorpo fu coinvolto Nell'operazione Nemesi Condotta dalla polizia di Siracusa Che disarticolò nel luglio del 2008 Il clan mafioso Trigila Attivo nella provincia retusea Venne arrestato A seguito della sentenza di condanna A tre anni e sei mesi di reclusione Emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania Per associazione per delinquere di stampo mafioso La direzione investigativa antimafia di Catania Ha dato quindi esecuzione al provvedimento Emesso dalla Corte d'Appello di Catania Quest'ultima ha confermato la confisca Disposta precedentemente dal Tribunale di Siracusa Dopo l'applicazione della misura di prevenzione Del sequestro emanata nel 2011 Su proposta del direttore della DIA Etnea Le indagini accertarono la relazione Con esponente al vertice del clan Trigila E la gestione in forma monopolistica Del mercato del noleggio di apparecchiature elettroniche Di intrattenimento e di azzardo Videopoker nella provincia di Siracusa Ma anche in quella di Ragusa Diversi venditi raccontarono Che l'Iuzzo Scorpo Il quale aveva investito più di un milione di euro Per l'acquisto di apparecchiature elettroniche Versava mensilmente nelle casse del clan 20.000 euro Ricevendo in cambio Protezione e garanzia sul suo monopolio Attraverso l'intimidazione della concorrenza Dei beni confiscati Fanno parte quattro terreni Tre fabbricati Siti nel comune di Siracusa Dieci automezzi Tra cui una Maserati Gran Turismo Società di gioco E numerosi rapporti bancari e postali La Guardia di Finanza Ha sequestrato beni Presunti appartenenti Alle consorterie mafiose A Enna Beni per un milione e 600 mila euro Sono stati sequestrati In provincia di Enna Dai finanzieri del Gico di Caltanissetta Il provvenimento emesso Dalla direzione distrettuale antimafia Ha colpito 80 ettari di terreno Un'azienda agricola Conti correnti E assegni circolari Intestate a Maurizio Giuseppe Nicosia 45 anni Al fratello Fabrizio Michelangelo E alla moglie di quest'ultimo Carmela Stagno Le indagini ebbero inizio nel 2012 Quando le fiamme gialle Furono delegate dalla DDA Ad effettuare accertamenti economici patrimoniali Nei confronti di Nicosia Più volte arrestato e condannato Per reati contro la persona Contro il patrimonio Stupefacenti Omicidio volontario tentato Porto abusivo di arma Lesione personale In debita percezione di contributi pubblici Nel settore agricoltura e allevamento In osservanza degli obblighi Sulla sorveglianza speciale L'uomo è ritenuto dagli investigatori Inserito nel clan mafioso Nicosia di Villa Rosa Ed è stato anche sottoposto Alla sorveglianza speciale Con obbligo di soggiorno Nel comune di residenza Gli accertamenti dei finanzieri Hanno fatto luce su un atto di compravendita Perfezionato nel 2011 Attraverso cui Maurizio Nicosia Principale indagato Ha ceduto 80 ettari di terreno Al fratello e alla moglie di quest'ultimo Per i quali i ettari hanno chiesto E ottenuto ingenti contributi comunitari Dalla GEA L'interposizione fittizia dei parenti Era stata concepita Per svincolarsi formalmente dei beni Ma per salvaguardare dall'altro lato Il patrimonio Da un'eventuale aggressione Da possibili misure di prevenzione I tre sono indagati in concorso Anche per truffa aggravata Avendo continuato a beneficiare Di contributi pubblici Per l'agricoltura e l'allevamento I reati sono stati contestati Con l'aggravante Di avere commesso il fatto Per agevolare il clan mafioso Di appartenenza Cronaca sindacale Parliamo di Conforama Di riposto E non solo di riposto Anche di Melilli Si è concluso con un accordo Sul contratto di solidarietà Il confronto al Ministero del Lavoro Tra i sindacati di categoria E la direzione aziendale Di Conforama Italia Ed MZ Moda Sul tavolo I erano i subri annunciati Rispettivamente per 47,30 unità La riduzione dell'orario di lavoro Fino ad un massimo del 23% Questo è l'accordo per 12 mesi Dal 26 marzo al 31 marzo del 2019 Dal 26 marzo del 2018 Al 31 marzo del 2019 Coinvolgerà complessivamente 446 lavoratori Ad esclusione dei direttori dei negozi E dei responsabili di reparto E di deposito 290 dipendenti Dei punti vendita Conforama Italia Tra cui quelli di riposto E di Melilli E 156 dipendenti Di tutte le filiali MZ Moda Le due società Dei corsi 7 mesi Dalla scadenza Del contratto di solidarietà Corrisponderanno Ai dipendenti Che hanno subito Una riduzione Oraria superiore Al 20% Una somma lorda Di 1000 euro Ma in questo modo Vengono scongiurati Allo stato attuale I licenziamenti Che erano stati Preventivati Dalla azienda Continua a Catania La protesta Delle aziende Di Espurgo Pozzineri I mezzi pesanti In sosta Nel piazzale Asia E decine e decine Di lavoratori E imprenditori In presidio Per denunciare Il rimpallo Di responsabilità E chiedere L'intervento Delle istituzioni E intanto La vicenda Del settore Espurgo Pozzia A Catania Rischia di esplodere Come una bomba Ad orologeria I numeri dell'emergenza Non solo occupazionale Ma anche genico Sanitaria Sono in esposizione Sui cartelli Attaccati E parabrezza Un tavolo tecnico Urgente In prefettura La richiesta Ribadita Dall'organizzazione Di categoria Come definisce Questa limitazione Assurda Perché è da 50 anni Che le aziende Scaricano regolarmente I reflui E da 50 anni Che il codice 19.0805 Viene portato In compostaggio E non si capisce Per quale motivo Per un giudice Della procura regina Si debbano bloccare Le aziende E il territorio catanese Invece Le altre province E' quello che ci chiediamo Le altre province Allora cosa fanno In questo momento Stanno sicuramente Commettendo un illecito A sto punto 500 interventi In evasi In poche settimane 70 lavoratori A rischio Licenziamento Una ventina Le vite storiche In ginocchio Per le nuove limitazioni Di conferimento Decise dalla Sidera Cosa rischia La sua azienda? Il licenziamento Immediato Di 7 dipendenti E una segretaria Perché da oltre 3 mesi Paghiamo regolarmente I contributi Allo Stato italiano Gli stipendi Li stiamo pagando Regolarmente Ma non possiamo Andare a lavorare Da quanto tempo Lei lavora in questa azienda? Da 12 anni Non è mai stato Così difficile Veramente Lavorare Perché Hai a che fare Con delle persone In difficoltà Che ti chiedono aiuto Ma non puoi aiutarle Chiedi aiuto Alle istituzioni Ma non ne Non stiamo ricevendo Nessun riscontro Anche con la riduzione Dei conferimenti Non possiamo lavorare Perché con un spurgo A settimana Per ditta Non riusciamo Ad accontentare L'utenza Ruspe ancora in azione Alla spiaggia libera Numero 3 Di Catania Per tentare La bonifica Dalle parole Ai fatti Dritti All'obiettivo Cemento zero Nelle spiagge Libere Della playa Di Catania Da ieri È in corso L'operazione Di abbattimento Delle squallide Strutture In cemento Sulla sabbia Si è partiti Dalla numero 3 Quella più distante Della città Ma nell'arco Di una settimana La demolizione Sarà completata Passando via via Da una spiaggia All'altra E in quella centrale Che si dovranno Aggredire Più metri Pubi di cemento Suggestive Le immagini Che ci mostrano Le ruspe In azione A dentare Pezzo dopo pezzo Il degrado E ridurlo In macerie Costruzioni vecchie Decadenti Divenute Tristemente Simbolo Di una barriera Tra i cittadini E la natura Tra i catanesi Ed il loro mare E comostri In serie Deturpanti Che hanno reso Un ripiego Il servizio Degli stabilimenti Pubblici Riservandolo Solo a chi Non poteva Permettersi Di più E inadatto Ad accogliere I turisti Ma soprattutto Un luogo insidioso Zona franca Per gran parte Dell'anno Sono stati i catanesi Grazie alle leggi Sul bilancio partecipato A chiedere Attraverso un referendum Che il 2% Delle somme A disposizione Del comune Fossero destinate Alla riqualificazione Della playa Un budget Di 300.000 euro Che ne trasformerà Il volto Realizzando Entro i primi di maggio Tre spiagge A tema Sport Nella prima Natura Nella seconda Il ritrovo Per le famiglie Nell'ultima Ogni nuova costruzione Sarà in legno Ecosostenibile Ed amovibile Andiamo ancora Rimaniamo anzi A Catania Parliamo di altro Di un accordo Siglato Tra la procura E l'agenzia Delle entrate Che dovrebbe portare Dei benefici Evidenti Vediamo Procura e agenzia Delle entrate Assieme a Catania Per fronteggiare I reati economici Questo l'obiettivo Del protocollo D'intesa Firmato dal procuratore Carmelo Zuccaro Dal generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere Comandante provinciale Della guardia Di finanza etnea E dal direttore Regionale Della sicilia Dell'agenzia Delle entrate Pasquale Stellacci L'accordo Analoghi protocolli Erano stati già siglati Nelle procure di Agrigento Enna Raguse Siracusa Consente di rafforzare Le sinergie tra istituzioni Semplificando le reciproche Attività Riguardanti Leciti tributari Di rilevanza penale Per contrastare efficacemente L'evasione fiscale E i reati tributari In materia di imposte Sui redditi Ediva L'intesa Prevede infatti Flussi comunicativi Più rapidi Attraverso L'uso di procedure Informatizzate L'integrazione Delle notizie di reato Con eventuali Sopravvenute informazioni E il costante aggiornamento Sugli sviluppi E sugli esiti Dei procedimenti penali Per reati tributari E per reati Che abbiano prodotto Proventi illeciti Sottoponibili A tassazione O che implichino Costi e spese Non deducibili Un ulteriore punto di forza Del protocollo È costituito Dalle novità Introdotte Dalla legge di stabilità 2016 In materia di redditi Derivanti da attività Penalmente illecite In particolare Nei casi in cui La magistratura inquirente Nell'ambito di proprie indagini Venga a conoscenza Dell'avvenuto conseguimento Di proventi O vantaggi illeciti Informerà tempestivamente Gli uffici Dell'Agenzia delle Entrate Per il conseguente Recupero delle somme vase A Catania È stato firmato Un protocollo D'intesa Tra il comitato Della Croce Rossa Italiana E la casa circondariale Di Piazza Lanza Che prevede Lo svolgimento Nella struttura Di uno servizio Per consentire I migranti detenuti Che volessero Avvalersene Il ripristino Dei contatti familiari Da oggi Un gruppo di volontari Della Croce Rossa Di Catania Entrerà In contatto Con i migranti Detenuti Nel carcere Di Piazza Lanza Per aiutarli Nella ricerca Dei familiari Si chiama Restoring Family Link Ripristino Dei contatti familiari Il progetto Al centro Di un accordo Siglato Tra l'organizzazione Umanitaria E l'istituto Penitenziario Catanese Referente Del delicato servizio Per la Croce Rossa Silvia Dizia Un'attività Dove viene data voce Anche a tutte Quelle persone Che arrivano Nella nostra città In determinate circostanze Che ormai sono note Che appunto Diciamo attraverso Diciamo tramite gli sbarchi E che una volta Giunti In una situazione Di detenzione Hanno La voglia Di far sapere Comunque A un proprio familiare Di essere arrivato E di essere arrivato Soprattutto vivo Il progetto Vede impegnati 15 volontari Del comitato Etneo Che adeguatamente Formati E con anni Di esperienza Alle spalle Garantiranno A turno L'assistenza Ai detenuti Varcando i cancelli Di piazza Lanza Un giorno a settimana Un servizio volto Al ricongiungimento Dei nuclei familiari Ma anche Un supporto Psicologico Che già vede In altri luoghi Dal molo Al porto Ai centri Di accoglienza In prima linea La Croce Rossa Non senza difficoltà Spiega La referente Indossiamo un emblema Quindi diciamo Questo può Come dire Rappresentare fiducia Nei confronti Della persona Con la quale Ci confrontiamo E parliamo Però sicuramente La difficoltà Può stare nel raccontare No? La propria storia Perché molto spesso Poi quello che emerge Dalle nostre attività Non è soltanto Un'attività di ricerca Ma anche qualcosa Che gli appartiene Loro La loro vita Per rimanere a Catania Nel pomeriggio Lunghe code Nella zona Dell'aeroporto Di Catania Appunto A causa di un'autovettura In fiamme Lungo l'asse Dei servizi Sul posto Sono intervenuti Ovviamente I vigili del fuoco Per spegnere l'incendio Ma anche la polizia Locale Per deviare il traffico Lungo la via San Giuseppe All'arena Ovviamente File Durante L'intervento Dei pompieri Poi la situazione È tornata ad essere Normale A Giarre Il comune Ha ufficializzato Alla regione La manifestazione Di interesse Per l'avviamento Dei cantieri di lavoro Potrebbero partire Già prima dell'estate I cantieri di lavoro A Giarre Che consentiranno Di effettuare Piccoli ma significativi Interventi Di manutenzione Su strade Marciapiedi E piazze Della città Si attende adesso Soltanto l'ok Della regione siciliana Intanto stamani L'amministrazione comunale Ha ufficialmente dato Comunicazione Della manifestazione Di interesse Che una volta arrivato Il parere favorevole Da Palermo Porterà i finanziamenti Necessari Per concretizzare Le opere cittadine 50.000 euro A dente comunale Che abbia una popolazione Non superiore Ai 150.000 abitanti Questo prevede L'istituto Dei cantieri di lavoro Che da un lato Apportano migliorie E dall'altro Offrono opportunità Di lavoro Ai disoccupati Per l'armano d'opera Infatti Si attinge Dalle liste Dell'ex ufficio Di collocamento Abbiamo comunicato Una manifestazione Di interesse Appunto Abbiamo comunicato Alla regione Che siamo interessati Ad accedere Ai finanziamenti Relativa ai cantieri Di lavoro Sono dei Un istituto Di finanziare Abbiamo i nostri Progettini Già pronti Per la realizzazione Noi abbiamo Delle zone In cui I pini Quindi con le loro Radici Hanno effettuato Degli interventi Diciamo Dall'interno Sollevando Il mando stradale Quindi bisogna Riportare tutto Alla Diciamo Alla natura Ecco Quello In orizzontale Ancora variabilità Sulla nostra isola Per quanto riguarda La meteorologia Tranne che Nel Catanese Nel Siracusano Dove sarà Un sole splendente Calmi i mari Le temperature 13 la minima 26 la massima Carmi i mari Carmi i mari Carmi i mari Autore dei sovrapposti